Proseguono i servizi ad alto impatto della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Le aree interessate oggi sono quelle dei quartieri Vasto Arenaccia e Vicaria Mercato, dove dalle prime ore del mattino circa 200 operatori delle diverse forze dell'ordine hanno effettuato decine di perquisizioni. L'attività ha consentito di denunciare a bario titolo alcune persone e di sequestrare diverse quantità di sostanze stupefacenti del tipo marijuana, materiale per il confezionamento, ingenti quantità di merce contraffatta e di sanzionare alcune persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed altre rispetto a norme del codice della strada. Ancora sono stati sequestrati amministrativamente due veicoli ritirati, alcune patenti di guide e controllati diversi esercizi commerciali della zona.